Buongiorno dalla redazione di Udinews TV. La Guardia di Finanza di Pordenone sta eseguendo in queste ore alcuni sequestri preventivi per un valore complessivo di circa 1 milione e 200 mila euro nei confronti di una cittadina italiana che svolgeva funzioni di assistente familiare a favore di una donna di 91 anni, recentemente deceduta, e del figlio affetto da disabilità psicofisica. Le indagini hanno accertato che la badante aveva sottratto 652 mila euro dai beni di proprietà della donna, impiegandoli poi nell'acquisto di titoli in un istituto di credito, il cui direttore è ora indagato dalla Procura della Repubblica di Pordenone per il reato di favoreggiamento. Nell'ambito della stessa vicenda, indagini sono in corso inoltre per stabilire le cause del decesso dell'anziana assistita. Secondo quanto si è appreso, la badante, subito dopo la morte della donna, aveva dato autonomamente disposizioni per l'immediata cremazione del corpo senza interpellare i parenti della scomparsa. Peculato, omissione dati d'ufficio e falsità ideologica nella redazione di certificati clinici. Sono queste le ipotesi di reato di cui deve rispondere Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria dell'azienda per assistenza sanitaria 3 per l'Uli Venezia Giulia e dell'Usl 2 di Treviso, accusata di non aver somministrato vaccinazioni obbligatorie a quasi 8 mila pazienti per lo più bambini tra il 2009 e il 2016 durante il suo servizio. Con la richiesta questa mattina la prima udienza del processo in Tribunale a Udine con la richiesta di una delle legali della donna di rinviare ad altra data per l'assenza, per legittimo impedimento di un membro del collegio difensivo. Richiesta accolta dal collegio e nuova udienza fissata per il 15 ottobre. Sentiamo l'intervista realizzata da David Zanirato. Avvocato Chiara Pianonna, a rappresentare quest'oggi Emanuela Petrillo, avete chiesto il legittimo impedimento per l'assenza del legale Salandini? Sì, la complessità del procedimento, ossia per le parti, il numero delle parti, l'importanza delle parti e l'importanza dei soggetti coinvolti necessitava la presenza sicuramente di un collegio difensivo al completo. Il giudice ha accolto la vostra richiesta e si ritornerà in aula il 15 ottobre? Si ritornerà in aula il 15 ottobre per la mancanza di due membri del collegio assegnatario e quindi, impregiudicati i diritti di questa prima udienza, si ripartirà da questo punto con la richiesta di ammissione delle prove e di esclusione delle parti civili. La vostra assistita come sta? Che cosa si attende da questo procedimento? Guardi, la nostra assistita è serena e confida nella giustizia. Confida nella giustizia, lei ha vaccinato, ha fatto il suo dovere e questo sicuramente dovrà emergere, assolutamente. Il questore di Pordenone ha disposto il divieto di accesso per tre anni nei pubblici esercizi del centro città, nei confronti di un 24enne pordenonese, protagonista di una rissa, venerdì pomeriggio in un bar di via Santa Caterina con un altro avventore. La titolare del locale, chiamate le forze dell'ordine, ha cercato di porre fine alla violentalite, venendo a sua volta colpita alle labbra. La volante intervenuta sul posto ha identificato l'uomo gravato da precedenti di polizia e già condannato per stupefacenti. Appena un paio di mesi fa, il 24enne era anche stato multato per ubriachezza molesta e denunciato per lesioni personali, violenza privata e minacce. Andiamo a Trieste con la cronaca, un furto in un supermercato di Viale Miramare. Un uomo del 1988, cittadino Moldavo, è stato denunciato per aver sottratto una bottiglia di brandy dagli scaffali del supermercato appunto in Viale Miramare. Lo straniero era stato notato dal personale del negozio mentre armeggiava con alcuni prodotti con l'intento di varcare le casse senza pagare. All'uscita è stato fermato ed è stato richiesto l'intervento della polizia. Lieve scossa di terremoto all'alba di oggi alle 5.31 la terra ha tremato di nuovo e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha valutato la magnitudo in 1.9 della scala Richter con una profondità di 8,3 chilometri e l'epicentro tra Tolmezzo e Verzenis. Non si sono registrati danni a persone o cose a seguito di questa scossa. Domenica pomeriggio ricordiamo c'era stata un'altra scossa di 3.8 con epicentro tra Tolmezzo e Zugno. Adesso andiamo a Gorizia, andiamo dalla nostra Francesca Santoro che sta seguendo per noi i preparativi per la prossima edizione di Gusti di Frontiera in programma nel fine settimana a Gorizia. Si inaugura giovedì pomeriggio. Francesca buongiorno, a te la linea. Esatto Angela, buongiorno. Gorizia è in fermento perché giovedì inizia la sedicesima edizione di Gusti di Frontiera. Oltre 400 gli stand e noi gastronomici, 20 i borghi geografici che saranno allestiti in città. Una manifestazione che richiede un imponente piano di sicurezza dato che sono attese molte, molte persone. Piano di sicurezza che sarà presentato a breve in comune. È stato elaborato con il coordinamento della prefettura di Gorizia e con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine. Ci ha anticipato le linee principali di questo piano di sicurezza il comandante della polizia locale, Marco Muzzatti. Chiedo quindi alla regia di mandare in onda l'intervista. Piano di sicurezza 2019 per Gusti di Frontiera, un piano imponente? Sì, un piano imponente concordato a livello di prefettura che ringrazio per la disponibilità e per il fatto di aver coordinato moltissimi uomini, siamo oltre 200, presenti ai barchi, presenti nella manifestazione con le divise d'ordinanza, quindi le varie divise della Polizia, di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e poi divise anche di vari operatori privati che fanno sì che la sinergia pubblico-privato funzioni, ha funzionato e spero funzionerà anche in futuro. Ci sarà, come gli anni scorsi, la centrale di controllo nella sezione e nel comando della polizia municipale? Certo, la centrale di controllo sarà affidata al comando di polizia locale dove tutte le forze di safety saranno presenti, un plauso particolare anche ai volontari di protezione civile, alle varie associazioni dei carabinieri in congedo, agli alpini, ai radiomatori che ci sono vicini e che assicurano con la loro presenza il regolare svolgimento della manifestazione. Quante le telecamere che sorveglieranno la festa? Siamo sempre sull'ordine della settantina, però la città è monitorata in ogni sua fase, in ogni luogo, però dovremmo riuscire ad averne un'altra cinque per quest'anno. Vetro bandito dagli stand? Vetro bandito, ma come gli anni scorsi abbiamo contemperato le esigenze economiche con quelle della sicurezza, per cui nell'ambito del proprio Deor, chi ha segnalato la necessità di poter procedere con ceramica o con vetro può farlo. Quindi massima attenzione su tutti i fronti? Massima attenzione, chiediamo collaborazione a chi, visto che sembra ci sarà anche bel tempo, verrà alla nostra manifestazione, ma credo che l'educazione, che non è mai mancata, a senso civico, prevaranno su tutto. Un imponente piano di sicurezza quindi per Gussi di Frontiera 2019, con oltre 200 operatori che sorveglieranno la festa, a cui si aggiungono comunque anche gli steward privati. Maggiori dettagli saranno forniti nella conferenza stampa, quindi magari vi aggiornerò più tardi, intanto ti restituisco la linea. Grazie, grazie allora Francesca Santoro. E a proposito di Cibo, Coldiretti lancia l'ultimo sprint verso il milione di firme per la campagna Stop Cibo Anonimo. L'ultimo appello a una settimana dalla chiusura della raccolta delle firme lo fa la Coldiretti del Friuli Venezia Giulia con il suo presidente regionale, Michele Pavan, che lancia appunto la tappa finale dell'iniziativa Stop Cibo Anonimo, con l'obiettivo del milione di adesioni a livello nazionale. In 53 mercati rionali del Friuli Venezia Giulia, da Tarvisio a Lignano, da Pordenone a Trieste, sarà possibile firmare fino al 2 ottobre ai banchetti di Coldiretti. Al momento, fa sapere Pavan, di firme ne sono state raccolte. In Italia più di 900 mila, ma serve un ulteriore sforzo per centrare il risultato. In regione abbiamo superato quota 16 mila, ma mettiamo in campo la nostra squadra ancora per qualche giorno, in modo da spingere la petizione al traguardo. Nel testo, Coldiretti e altre organizzazioni comunitarie chiedono alla Commissione europea di estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta di tutti gli alimenti. Si tratta di un vero e proprio fronte europeo per la trasparenza, che mira appunto a raccogliere un milione di firme in almeno 7 Paesi dell'Unione. Tre le finalità. Innanzitutto la protezione della salute, dalla contraffazione e dall'adulterazione dei prodotti alimentari, quindi la prevenzione delle frodi. Il valore del falso made in Italy agroalimentare nel mondo ha superato i 100 miliardi, con un aumento record del 70% negli ultimi 10 anni. La raccolta firme mira infine a garantire i diritti dei consumatori. I cittadini italiani hanno il diritto di essere protetti e di ricevere informazioni accurate sul cibo che scelgono di acquistare, ha sottolineato Pavanna. E siamo allo sport adesso. Oggi giornata di campionato per l'Udinese, che questa sera alle 19 affronterà il Verona in trasferta. Udinese reduce, come sappiamo, dalla sconfitta contro il Brescia e del momento che sta attraversando. La squadra bianconera si è parlato molto a lungo ieri sera nella nostra trasmissione di approfondimento del lunedì. Allora andiamo a sentire un estratto con le parole di Michele Criscitiello. Allora facciamo subito un'analisi. Se dobbiamo parlare solo della partita di sabato contro il Brescia o se dobbiamo parlare di questo avvio di stagione, perché secondo me si sta facendo un po' di confusione e le due cose stridono completamente. Punto uno, l'inizio della stagione dell'Udinese calcisticamente parlando a me non è assolutamente dispiaciuto. Anzi, con il Milan hai fatto bene, con il Parma hai fatto molto bene e hai perso. Con l'Inter hai fatto bene, 11 contro 11 stavi facendo più che bene, 11 contro 10 hai fatto bene e le sostituzioni sono state tardive. Contro il Brescia hai fatto male, punto. Contro il Brescia possiamo rivedere i 90 minuti di sabato, altri 100 volte non possiamo dire che la gente ha fischiato e non ha ragione. Se dobbiamo fischiare per i 90 minuti con il Brescia siamo tutti perfettamente d'accordo. Se però dobbiamo iniziare a dire e allora questo non va, è tutto da cancellare, e il mercato non è stato fatto bene, questa squadra non ha gli attributi, no. Perché, signori, se questi ragazzi avevano gli attributi fino a due settimane fa e sono usciti tra gli applausi, l'apoteosi con il Milan, gli applausi con il Parma, la bella figura di Milano, sono le prime tre giornate. Alla quarta è steccato e non ci sono attenuanti, non ci sono scuse, però adesso dobbiamo farci una ragione. La fortuna e il calendario cosa vuole? Che dopo una prestazione opaca, pessima, quello che vogliamo, ancora una volta secondo me i cambi tardivi, ma a questo punto c'è la possibilità domani, non tra dieci giorni, domani di riscattarsi. Domenica di tornare in casa con il Bologna. Se proprio dobbiamo fare un'analisi estremamente negativa, facciamola dopo tre partite contro Brescia, Verona e Bologna, aspettiamo la seconda e la terza fase. E invece dopo la prima, secondo me, stiamo un po' esagerando. Ho letto situazioni estremamente negative, ho letto situazioni anche a tratti paradossali, io sono d'accordo, d'accordissimo, con giudicare in maniera negativa la partita di sabato, dove la squadra non si è presentata e è rimasta negli spogliatoi. Io però da Tudor, e parlo ovviamente in questo caso liberamente e non volendo accusare nessuno, però mi chiedo come mai un giocatore come Mandragora non trovi spazio, perché secondo me è fondamentale. E poi capisco tante situazioni, capisco tante scelte. Il Brescia di Corini, lo sapevamo, ne abbiamo parlato venerdì, sappiamo come giocava in Serie B, sappiamo come gioca in Serie A, gioca di rimessa, sulla palla sporca, ha una difesa attenta, quando può segna e ottimizza tantissimo. Cosa ho detto venerdì, nel punto del venerdì sera, durante il telegiornale? Ha fatto quattro gol il Brescia, su dodici conclusioni verso lo specchio della porta, cioè un terzo dei tiri va in porta e fa gol. Questi erano i problemi, purtroppo l'Udinese c'è cascata con tutte le scarpe. Adesso pensiamo alla gara di domani alle 19 contro il Verona, è un buon Verona ma ha solo un punto in più, il Milan ha solo tre punti in più, il Torino ha solo tre punti in più, quindi le prime quattro giornate non ci possiamo già fasciare la testa. Dobbiamo giudicare singolarmente le partite. Secondo me le prime tre partite sono state positive, la quarta negativa. Aspettiamo la quinta e aspettiamo la sesta, ma vorrei capire perché alcuni calciatori in questo momento non trovino spazio in questa Udinese. E dunque Verona Udinese aprirà questo pomeriggio alle 19, la quinta giornata di campionato. Andiamo a vedere con aiuto della grafica le altre gare in programma in questo turno infrasettimanale, sempre oggi scenderanno in campo anche Brescia e Juventus, domani Roma-Atalanta alle 19 e poi alle 21 Fiorentina-Sandoria, Genua-Bologna, Interlazio, Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo e Spal-Lecce. Torino-Milan giovedì chiuderà questo turno. Questa sera scende in campo anche il Pordenone di Mister Tesser alla Dacia Arena contro la capolista Benevento di Pipo Inzaghi. Andiamo a vedere il servizio di Lorenzo Paussa. E già vigilia di campionato anche per il Pordenone, che torna alla Dacia Arena per affrontare la capolista Benevento dopo il passo falso di Livorno. Una sconfitta che non fa abbassare la testa alla squadra di Mister Tesser, che al picchi è stata comunque protagonista di una prova propositiva e dove il pareggio non sarebbe stato un risultato iniquo. Non basta la prima rete in campionato di Strizzolo a regalare ai Nero-Verdi il primo punto in trasferta. Il Livorno, reduce da tre sconfitte senza mai segnare, ha fatto valere tutta la sua esperienza nella categoria per sbloccarsi e alla fine gli sforzi della truppa di Breda sono stati premiati, con Agazzi e Marras finalizzatori, con un gol per tempo, del successo a Maranto. Se i due match finora disputati in trasferta non hanno portato punti, da quelli alla Dacia Arena il Pordenone invece ne ha tratto il massimo. Domani sera il Benevento arriverà con il biglietto da visita di prima della classe, ma i ramarri sono determinati a continuare a sfruttare il fattore campo per portare a casa un'altra vittoria. Una squadra importante, ha fatto la Serie A, è scesa e ci riprovò a risalire. Un organico molto importante, stanno bene, dicono i numeri, e quindi un'altra partita impegnativa. Per noi, come hai detto, sarà da recuperare sicuramente come tutti, penso che quando si gioca partite ravvicinate, energie fisiche, nervose, ma soprattutto la fiducia e l'autostima con cui dovremo andare in campo domani. dobbiamo andare timorosi, dobbiamo andare con il freno manotirato per la partita persa poche ore fa, ma solo con quella voglia giusta, lucida di Rivaizio. Andiamo a vedere anche le partite del campionato di Serie B in questa sesta giornata. Benevento Virtus Entella, no, c'è qualcosa che non va in questa grafica, è quella della prossima giornata di campionato. Vediamo se riusciamo a recuperare la grafica giusta, altrimenti diamo uno sguardo allora alle previsioni del tempo, rivedremo tutte le altre partite nel corso della prossima edizione del nostro TG e per chiudere vediamo appunto il meteo, vediamo cosa ci aspetta per questa giornata, ci sarà bel tempo ancora su tutto il Friuli Venezia Giulia, avremo cielo variabile nel corso della giornata, saranno probabili maggiori schiarite, temperature massime di 22-25 gradi oggi in pianura. Andiamo adesso a vedere le servizio dell'ANSA, che come sempre in chiusura ci aggiorna sulle principali novità dall'Italia e dal mondo. Noi ci rivediamo alle 12, è più tardi. Giuseppe Conte promuove l'accordo di Malta sui migranti raggiunto da alcuni paesi europei e lo definisce una svolta. Sino ad oggi si stentava a tradurre il principio che chi arriva in Italia arrivava in Europa sostiene, mentre il nuovo meccanismo di redistribuzione abbraccia tutti. In più si comincia ad affermare il principio che non può essere solo l'Italia il primo approdo, ma che ci deve essere una rotazione. Ora bisogna vedere quanti paesi parteciperanno. 77 paesi, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, fornisce le cifre del successo del Summit sul clima al Palazzo di Vetro, e aggiunge che 70 paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020. Greta Thunberg è in lacrime e striglia l'Assemblea. Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia, protesta al Summit. Poi in un incontro fortuito, l'attivista svedese fulmina Trump con un'occhiata che fa il giro del mondo, ma il tycoon la ignora. Due razzi sono caduti nella Green Zone di Baghdada, a un chilometro dall'ambasciata degli Stati Uniti. Non risultano vittime. La Gran Bretagna accusa l'Iran del lancio che arriva a pochi giorni dagli attacchi agli impianti petroliferi in Arabia Saudita. Israele punta il dito contro le milizie appoggiate dall'Iran in Iraq. L'attacco è il secondo da maggio, quando un razzo è stato lanciato nella Green Zone. L'attacco è il secondo da maggio,